Il Consiglio di amministrazione dell'AECA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con un attivo di circa un milione di euro e ha tracciato gli obiettivi prossimi che puntano a inserire l'azienda in un circuito di normalizzazione. Tra le priorità vi sono i controlli sugli allacci abusivi, le verifiche sui contratti e il recupero dei crediti. Ascoltiamo Nuccio Sapia. Oggi è una giornata importante, fondamentale perché l'approvazione dello strumento finanziario, con una chiusura positiva, seppure di poca entità, ci consente di sovvertire quella che era la differenza della fase iniziale. Quando questo Consiglio di amministrazione si è insediato, molti sostenevano che non avremmo svolto un'azione efficace, specialmente sotto il profilo economico, stante che venivamo da due anni di accumulo di disavanzo. Invece noi abbiamo dimostrato, attraverso l'adozione di misure correttive, che esplicheranno i propri effetti a breve, è possibile riportare AICA in una condizione economica di efficienza. È importante questo perché molti chiedono, ma perché voi non diminuite il costo dell'acqua, l'entità delle bollette? Noi diciamo che prima bisogna fare una politica di resanamento. politica di resanamento che implica una sistemazione del bilancio, perché è dal bilancio che si tirano gli elementi per poi avere refluenza sulla tariffa. E noi oggi abbiamo fatto un passo importante e fondamentale. Naturalmente ci sarà un'attività di controllo giornaliero, perché molte delle misure ci consentiranno di disingagliare i tanti crediti che AICA vanta e che hanno potuto riscuotere. E comunque sì, ha bisogno che si garantisca liquidità a un ente che sta cercando e ha trovato finalmente la strada giusta per uscire fuori dal guado e dirigersi verso una prospettiva di grande efficienza. Questo ad onda dell'opinione pubblica creata d'arte da molti che volevano che questo Consiglio di amministrazione non fosse capace di svolgere questo ruolo importante.